Mona Frapporti, inizia oggi il tuo mondiale nell'Omnium, 20 atlete al via di cui 14 europee, qual è il tuo obiettivo? Sì esatto, oggi iniziamo il mondiale, il mio obiettivo è proprio quello di entrare nelle 8 europee perché mi garantirebbe buoni punti in chiave olimpica. Sarà difficile perché comunque in mondiale tutte arrivano preparate, penso di avere una buona condizione e di aver lavorato bene in questi ultimi mesi e speriamo che vada tutto per il meglio. Grazie Simona ed in bocca al lupo!